Vabbè, vabbè, buona partita, buona partita, buona partita. Oh, dai, po' ti facciamo. Capitani e portieri così, fa vedere. Chi perché è già? Oh, vai, 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 vai. Bravo. Pabio, novità. Eh? Niente. Dai, 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 dai. Vitto, vitto, sali. Piro le mani. Sali, sali, vitto, sali adesso. Occhio, eh. Vedo una spalle troppo largo. Vai Carlo, vai in mezzo. Vai, dai, 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 dai. Gioca, 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 gioca. Sì, vai, veloce, veloce, basse. Sì, calma, calma. Buona falla. Paolo, vacunare. un uomo davanti attacchiamolo vieni guarda i compagni alto guarda dove sei messo alto non dormire alto meglio meglio sti passaggi guardalo va bene dai alto stai all'interno alto non girarti perché ti sei girato perché ti sei girato alto si stai all'interno alto 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 bravo dai 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 calma metti in posto allarmati andate come faccio dio e te ti in te ma vedere i fredding Giuseppe fra poco vediamo le luci com'è, dobbiamo avvisare la, per le luci. Vai Toma Steph, tu Tommy, il lito è stretto in mezzo. Si si. Dai, dai alto, dai, mandalo, mandalo, su! Dai, dai lì! Forza, forza Eli! Bravi! Guarda, guarda, guarda Eli! Venti qua che hai operato! Venti allo scambio! Allarga! Vitto, prendi la palla, la devi allargare, o di qua o di là, non portare in avanti! Uno sulla palla! Mi attento eh! Guarda due! Due! Mi testo due! Sei prattenti, vai dentro, qui là! Prima, aspetta! Quando sei pronto non lo dici! Stretti in barriera, stretti! Vieni a posizione Filippo! Andiamo? Olè! Prego! Vai! Lo dico prima, lo dico prima! Ve lo dico prima! Legaliamo sempre quattro minuti! Quattro minuti e non prendo il gioco! Vado! 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 Uccisi! Sino? Dai, dai, dai! Hai una barriera per il gioco eh? con calma con calma vai dentro vai dentro le asfalti facci le con sinistro con sinistro alto recupera l'interno si è deciso bravo guarda l'interno avanti all'uomoli tiro ok con calma con calma bravo così bravo Camino arriva l'uomo fermati adesso Firo dai Firo spingi Firo bravo Edu Dava quello è tuo non devi venire a sinistra sono già in due non rimbalza dai Firo aiuto Firo aiuto Firo ciao come sta andando 3 a 0 anche l'ora comunque malissimo perché c'è i roba pazzi 3 punti dopo 10 minuti ma va bene no paghiamo 1 a 0 no paghiamo 1 a 0 su punizione ma quasi così quindi 3 a 0 dopo 10 minuti bene fantastico sì 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 va bene vai dai fa niente torna avrò si rompia lì è va bene va bene ciao a vero fin da dopo ciao ciao sposta sempre la palla poi ascolta cerca la sponda non portarla troppo facciala bene dai Eli dai Eli calma Ale veloce 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 ciao come va eh beh dimmi di quanto adesso vabbè il picci va bene ok dopo ciao 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 Piro, meglio lo stop, non ti devi andare avanti. Pallo laterale, meglio. Piero laterale, meglio lo stop, non ti devi andare avanti. 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 Vieni, atto, veloce, atto. Veloce, 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 veloce. Veloce, Piro, veloce. Vai sopra, fila. Bravo, fila. Vieni, ti devi andare avanti. Vieni, ti devi andare avanti. Vieni, ti devi andare avanti. Andiamo a fare tre passaggi di fila anche noi? Edo meglio ci passate. Carlo sei fermo. Carlo sei fermo. Siamo fermi. Siamo tutti fermi. dai alto lo farò girare Carbi dai alto, dai alto lo vieni a usare, alto lo ho detto Carbi via all'esterno vai, vai, vai bravo bravo, e incontro Edo no stoppala guarda Carbi come fai per la correre? sei già quasi sulla linea di fondo non te lo fai girati, girati vola, vai, vai si, così, vai lungo alto vai lungo, vai lungo non devi aspettare Carbi, cerca subito Elia dai raggiusta, aute vai dentro tu, Elia Elia, vai dentro dai aute stai dentro Elia, stai lì dentro bravo, bravo bravo No, Eli! Torna, Ale, torna, Ale, veloce, Ale, torna, 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 Ale, Ale, Dai, alto, dai, alto, Dai, alto, dai, alto, Dai, non lo dà più! Proviamo gli appoggi elementari. Dai, 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 Bravo, attorno, vai aiutarlo, vai aiutarlo sopra, Vai, Eli, dai, Eli, non scopirla! Eli, fai il sombrero, vai sopra, Eli! Segui l'uomo, segui l'uomo! Vieni, qui, là! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Alto, rapido, alto! Lascia, alto! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vai a prenderlo! Vieni qua, vieni qua, dietro, piedro, dietro! Piero, dietro! Piero! Vieni a posto, vieni a posto, dentro, 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 dentro! vai a farsi vedere! andiamo sempre a fare dei bimbi lunghi noi! Vai Piero! bravo chiuderlo chiuderlo va bene Edo va bene la prossima la prossima Edo dai che arriva la prossima Edo è girato di scena adesso è tardi è già tardi bravo gioco al tuo compagno meglio alto gioco al tuo compagno gioco al tuo compagno Sì, sì, sì. Soprano, lungo veloce, l'acqua. Alta, gioca bene con l'1-2. Buona! Entro, fila! Fila! Chi? Fila! Non è che manca un minuto! Sta male! Guglie, piange! Fatemi la ginocchia, vado ad entrare! Un attimo! No, Luca! No! Ah! Regis! Regis! Vieni, ferma! Un attimo! Un attimo! Un attimo! Oh! Un attimo! Publicità! Un attimo! Non è che si può perdere! Palazzo! Aspetta, dove vai? Aspetta, dove fischiare? L'albitro, ferma! L'albitro può rientrare poi, dovete fare i cambi Dio, ma non dici cos'è? Cioè dimmi cos'è, tira in porta direttamente, facciamoci gol da solo Tira in porta! Cioè dimmi cosa vuol dire una roba del genere Sembra che non hai mai giocato a casa Andiamo dietro! Si Carbi, si Carbi, anticipa Dai dai dai, alto! Non stare lì a guardare, alto! Dai dai dai, eh! Dai alto, dai alto, dai alto! Facile! 1 1 5 1 1 4 1 1 dove non vedo non parlo perché con le cosiddette con il quale l'altro ok, lì se ci perde il quale si prende il quale dai, 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 dai dai, dai, dai dai, 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 in avanti edo, terza, senza bene dai, 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 dai ma tu, lo faccio? si ehi, ehi pallo liberare bene eh ora posto, Carmin ehi, non sa fare, alto